PNRR approvate due mozioni presentate da PD e Lega per un maggior coordinamento nella gestione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Accelerare sul piano amiantolo chiede una mozione presentata dalla leghista Montemagni ed approvata all'unanimità dal Consiglio. Chiesto il potenziamento dei tirocini non curriculari via libera del Consiglio alla richiesta presentata dal consigliere del PD Fausto Merlotti. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio della Regione Toscana ha approvato due mozioni relative al piano nazionale di ripresa e resilienza. La prima presentata dal PD chiede la costituzione di un tavolo tecnico consultivo permanente composto da esperti qualificati e studiosi sull'attuazione del piano. La seconda mozione è stata presentata dalla Lega a firma Elisa Tozzi e impegna la Giunta a costituire un'unità di coordinamento regionale. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Noi abbiamo presentato questa mozione chiedendo che venga costituito presso la Giunta un gruppo di alto profilo anche scientifico in grado di supportare quella che sarà l'azione dell'unità di missione del gruppo di coordinamento che avevamo chiesto essere realizzato già con una mozione dell'otto di giugno. Questo perché il PNRR sarà una grande opportunità per la Toscana e a questo si affiancheranno anche le risorse della programmazione ordinaria del 2021-2027. Quindi occorre che di fronte a queste opportunità la Toscana sia coesa, sia unita, sia coordinata nel presentare una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa, quindi quella della transizione verso un'economia più ecologica, del superamento delle differenze tra territori e tra genere, di uno sviluppo sostenibile, di una maggiore coesione sociale. Ecco, per far questo occorre che la Regione svolga una cabina di regia importante nei confronti dei territori, di quella che sarà la capacità progettuale dei comuni, delle province, i suggerimenti che verranno dalle imprese e crediamo che se ci sarà un board di alto profilo in grado anche di dare suggerimenti rispetto alla coerenza e alle priorità per raggiungere questi obiettivi, noi riusciremo meglio a cogliere queste opportunità, di queste risorse che arriveranno e che sono fondamentali non soltanto per la ripartenza dopo la pandemia, che ha ovviamente acuito le criticità, ma anche per rilanciare un sistema economico, un sistema sociale, quello toscano che sicuramente può avere nella Regione un punto di riferimento importante per la sua ripartenza. Io credo che oggi abbiamo dimostrato sia la maggioranza ma anche l'opposizione di poter lavorare veramente nell'interesse dei toscani. Io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi, ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia, quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo. Ieri il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato la Presidente Vordellain. Siamo davvero nell'imminenza di una sfida storica che deve però vedere anche la Regione Toscana preparata. Ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito e immediatamente a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio. Il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta e Consiglio, ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni, di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa Regione, dove queste risorse, quelle che arriveranno e che saranno incanalate nei bandi dovranno essere spese bene, spese in modo efficace affinché appunto questa sfida storica possa essere portata a Terni davvero in modo positivo per tutti quanti noi. Io direi che l'importante è l'anticipazione dei 25 miliardi, la possibilità quindi di vedere partire subito progetti che chiaramente i primi sono quelli a cui ha dato a livello di priorità il Governo e sarà un po' il Governo a sceglierlo. Spesso viene considerato il PNR come qualcosa da dividere per 20 regioni, nulla di più sbagliato. L'approccio con cui l'autorevolezza del Presidente Draghi si è rivolto all'Europa, è l'autorevolezza di un Capo di Stato che naturalmente avrà tutta l'applicazione nell'indirizzare per il meglio quello che sarà già la prima anticipazione e quindi i primi progetti. Quindi va vissuto in chiave nazionale e in chiave nazionale l'importante è che la Presidenza del Consiglio scelga subito i progetti giusti per essere credibili con l'Europa e questo significa progetti cantierabili da subito perché siano completati entro il 2026. Poi di riflesso ogni regione avrà il suo vantaggio perché è un volano che fa ripartire l'economia e noi siamo lì pronti e attenti naturalmente nel contesto di questo indirizzo nazionale che è prerogativa del Capo di Governo e su cui è impostato il rapporto con l'Europa attraverso il PNR. Sì, è una discussione importante e a me fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso possa essere un progetto e progetti condivisi da soggetti pubblici e privati ma una coprogettualità che faccia partecipi alla regione toscana delle esigenze dei territori al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finali, tempi ed esecuzioni. Quindi è una discussione che entra nel merito ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha approvato il proprio progetto. Questo non era scontato se solamente tre mesi fa avessimo avuto un altro Governo. Il cambio di Governo, il Presidente Draghi ha dato l'opportunità all'Italia di essere autorevole. Noi abbiamo 190 miliardi da gestire nei prossimi anni e questo è anche merito ovviamente del Presidente Draghi ma in particolar modo anche l'Italia Viva che con l'operazione politica che ha attuato inizialmente magari non compresa, oggi rende tutto questo possibile. Una discussione sul PNRR che ci trova soddisfatti. Ci trova soddisfatti perché il Consiglio regionale ha recepito quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto. Oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana. La creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi mancava a nostro modo di vedere il coinvolgimento del Consiglio regionale. Noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta. Abbiamo presentato gli emendamenti che sono stati recepiti e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia una volontà di dialogo. Questo perché noi rivendichiamo il ruolo della politica. In Toscana stanno per arrivare tantissimi soldi, 760 miliardi di euro. Oltre la metà andranno restituiti. Quindi sulle spalle nostre, che siamo i rappresentanti dei cittadini, i cittadini hanno eletto noi per stare a rappresentare il Consiglio regionale, vi è una responsabilità tale da impegnare, non noi, ma tre generazioni dopo la nostra. Quindi la politica non può, deve utilizzare i tecnici, ci mancherebbe altro, ma non può abdicare ai tecnici. Non può dire nominiamo la cabina di regia, nominiamo il tavolo e che siano altri a decidere come si spendono questi soldi. Noi siamo stati eletti per rappresentare i cittadini e noi dobbiamo assumerci la responsabilità di come spenderemo questi soldi. Per dire un giorno ai cittadini che grazie a noi ci sono delle opere o perché i cittadini dicano a noi che in virtù delle nostre scelte sciagurate abbiamo sprecato questi soldi. La responsabilità è politica e per fortuna è stata ricevita. Adesso ci occupiamo di una serie di mozioni che sono state affrontate in Consiglio regionale. La prima è stata approvata, si tratta di una mozione sulla realizzazione di parchi giochi inclusivi in cui bambini con abilità e capacità diverse possono giocare insieme e interagire tra loro utilizzando i giochi installati nel parco. L'atto di indirizzo è stato illustrato all'aula da Vittorio Fantozzi, consigliere di Fratelli d'Italia. Praticamente oggi Fratelli d'Italia riesce a ottenere all'unanimità l'approvazione di una mozione che impegna la regione toscana a incentivare sotto il profilo degli investimenti non soltanto la realizzazione ma anche la riqualificazione dei parchi giochi affinché siano parchi giochi inclusivi. È una vittoria di tutti coloro che vedono nell'integrazione fra bambini con possibilità diverse una priorità e rispecchia chiaramente l'impegno verso il mondo della disabilità e dell'integrazione che è una delle bandiere portanti di Fratelli d'Italia. Presidente e Giunta regionale dovranno presentare quanto prima il piano regionale per la tutela dall'amianto con i necessari finanziamenti e prevederlo come priorità all'interno del piano regionale di sviluppo. L'impegno è al centro di una mozione che è stata presentata da Elisa Montemagni della Lega ed è stata approvata all'unanimità. Abbiamo portato questa mozione perché sono anni che si ampliano le discariche per lo smaltimento dell'amianto e riteniamo che senza un piano dell'amianto che ormai attendiamo da otto anni e di cui anche in questa mozione abbiamo chiesto una veloce stesura e quindi un arrivo in aula il prima possibile sia necessario mettere anche dei paletti e cercare di portare anche delle proposte alternative. Ad oggi l'amianto finisce tutto in discarica in Toscana ma ci sono comunque dei progetti che in altre regioni sono stati portati avanti per cercare di riutilizzarlo. Questo anche nell'ottica dell'economia circolare perché tutto il rifiuto deve poter trasformarsi in qualcos'altro quindi noi abbiamo chiesto che si velocizzasse l'arrivo del piano dell'amianto in aula che riteniamo fondamentale e che si valuti la possibilità di andare a recuperarlo invece che ampliare le discariche. Mi riferisco in questo caso a Cava Fornace e la Grillaia che sono le ultime che ad oggi hanno subito questi ampliamenti. Ovviamente abbiamo anche chiesto in audizione, in commissione tramite documento firmato che vengano a riferirci sia ARPAT che ARRR proprio per cercare di capire se ci sono già delle valutazioni, se già ci sono delle sperimentazioni, dei progetti fatti anche in altre regioni che possiamo prendere ad esempio. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna la Giunta al potenziamento dei tirocini non curriculari quali esperienza formativa, orientativa e professionalizzante fondamentale per i giovani toscani. Primo firmatario della richiesta che l'Aula di Palazzo del Pegaso ha votato a maggioranza è il consigliere del PD Fausto Merlotti. In pratica si è fatto con questa mozione, si impegna la Giunta a effettuare un check-up, una revisione, un tagliando come si dice alla legge che compie già dieci anni in Toscana e che funziona molto bene perché attualmente sono circa 47 mila le ragazze e ragazzi che effettuano tirocini non curricolari, di questi il 60% trova occupazione con un punto del 72% in alcune province della Toscana, segno che la legge funziona. Il tagliando e la revisione, l'adeguamento della legge prevede alcuni passaggi importanti quali il feedback che i tirocinanti possano dare sulla loro esperienza formativa, l'aumento del contributo fino a un massimo di 100 euro in base alla disponibilità che la Regione Toscana si impegna a derogare come riconoscimento per questa formazione, per questo impegno delle studentesse e degli studenti e in particolare anche la possibilità di aumentare l'età per cui si può accedere a questi tirocini non curricolari, ma fondamentalmente l'importanza di ribadire che sono tirocini di formazione orientativi, professionalizzanti e non di lavoro. Quindi non confondiamo il tirocinio con il lavoro, la mano d'opera che hanno altre tipologie di contratto a cui devono sottostare. In particolare c'è anche per chi ospita, quindi per le imprese, i professionisti che ospitano il tirocinante, l'impegno da parte della Giunta tramite questa mozione a semplificare e snellire l'iter burocratico per attivare il tirocinio stesso e anche questa è una richiesta che dal mondo delle imprese, dal mondo delle libri professioni era venuto ed era richiesto per attivare sempre più corsi, tirocini che permettessero alle ragazze e ai ragazzi di fare vera e propria formazione. Perché la pandemia e chiudo su questo sicuramente avrà strascichi sul mondo del lavoro anche in Toscana, forse con numeri meno importanti di altre realtà territoriali, di altre regioni, ma anche qui da noi ne soffriremo potenzialmente e quindi avere opportunità di formazione, di orientamento per le giovani e i giovani della Toscana è chiaramente un fatto di notevole importanza e penso e abbiamo pensato come Consiglio regionale che fosse questo giusto il momento per poter rivedere e riformulare la legge che si occupa di ciò. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per la visione!